Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.266 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale di L'Aquila. Rispetto a due giorni fa, dunque, ieri si è registrato un nuovo caso su un totale di 1.295 tamponi analizzati, con una percentuale di positivi rispetto al totale del tampone analizzati pari allo 0,07%. 81 pazienti, due in meno rispetto all'altro ieri, risultavano ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 5, numero invariato rispetto a due giorni fa, erano invece in terapia intensiva, mentre gli altri 453, 9 in meno rispetto all'altro ieri, erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 453 pazienti purtroppo deceduti, numero invariato rispetto a due giorni fa. 2.275 sono i pazienti dimessi o guariti, 12 in più rispetto all'altro ieri, di cui 117 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 2.158 che hanno risolto i sintomi dell'infezione risultando negativi in due test di seguito. Lunghi tratti ancora non realizzati, pericoli di collisione frequenti con i pedoni, visto che i percorsi delle due ruote e delle due gambe troppo spesso si sovrappongono. L'ultima tappa del reportage realizzato sulla ciclovia adriatica del presidente di CNA Turismo Claudio Di Dionisio è dedicata al segmento centrale di quella che sarà, ma solo una volta che sarà davvero ultimata, la lunghissima ciclovia destinata a cucire i confini regionali da nord a sud, da Martinsicuro a San Salvo, in un percorso davvero unico. Un sopralluogo, quello nell'area urbana pescarese, che arriva dopo le prime due tappe realizzate sul tratto del Chietino da Francavilla a San Salvo e su quello della costa teramana tra Martinsicuro e Silvi. Una lettera a firma di AGC, Casa Artigiani, CIA, CLAI, CNA, Confapi, Conf Artigianato, Conf Commercio, Conf Cooperative, Conf Esercenti, Conf Industria, Lega Coop, CGL, CISL, UIL e UGL è stata spedita al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per chiedere un incontro urgente sul corridoio Tirreno Adriatico all'indomani dell'istituzione della zona economica speciale. Parte la campagna di promozione turistica del prodotto mare, con il compito principale di guidare la ripartenza turistica dell'Abruzzo. Presentiamo un progetto ben strutturato, dice l'assessore al turismo della regione, Mauro Febbo, legato, aggiunge, al rilancio e alla ripartenza in sicurezza. Questa situazione di stallo, spiega Febbo e di crisi, ci ha permesso di individuare i punti di forza già consolidati dell'Abruzzo e i punti di debolezza da dover colmare per delineare un posizionamento rilevante e identificativo della regione. Quello che intendiamo comunicare attraverso questa campagna, spiega ancora l'assessore, è di invitare a visitare e vivere una terra di cui ci si innamora, dove fruire della natura, immergendosi in ambienti incontaminati, ricchi di luoghi e tradizioni locali, attraverso un'esperienza irripetibile. L'obiettivo, spiega ancora Febbo, è far comprendere al potenziale turista che in Abruzzo avrà la possibilità di scoprire in tutta sicurezza percorsi esperienziali inediti che lo condurranno a scoprire eccellenze ed itinerari del gusto, del paesaggio, dello sport e della vacanza attiva, della montagna, del benessere e della cultura. Applicheremo tutti i protocolli di sicurezza e in maniera impeccabile affinché chiunque voglia trascorrere la propria vacanza in Abruzzo si senta tranquillo in ogni momento. Il Comitato Tecnico Scientifico Individuato per l'emergenza Covid-19 dovrà aiutarci a scrivere la legge Cura Abruzzo 3 con la riprogrammazione dei fondi strutturali FESR e FSC, concentrandoci non solo sulla marginalità, ma soprattutto su chi produce lavoro e reddito e crea occupazione, quindi sulle partite IVA e sulle micro e piccole imprese che sono l'ossatura della nostra economia. Abbiamo individuato le principali linee d'azione, fra cui efficientamento energetico, sostenibilità, microcredito, scuola e formazione. Dal Comitato ci aspettiamo proposte veloci, semplici e attuabili per rendere utile il plafond di cui disporremo di 40 o 50 milioni di euro. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è stato eletto Benigno Dorazio, vicepresidente invece la dirigente scolastica Donatella D'Amico, segretario Daniele Giangiulli. Il primo obiettivo, ha spiegato il Presidente del Comitato Dorazio, sarà quello di ristabilire la fiducia per le imprese che spesso non tentano neanche di accedere fondi resi disponibili per timore di spendere risorse senza poi ottenere i rimborsi previsti. Una serie di proposte sui vari capitoli è stata già discussa all'interno di questo Comitato Tecnico Scientifico. Largo Baiocchi, Piazza del Grue e Via Martiri Pennesi a Pescara diventano sorvegliati speciali. Lo ha deciso nel corso della riunione odierne e di ieri del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è riunito in Prefettura con la presenza dell'assessore comunale delegato Adelchi Sulpizio. Il Comitato, per fronteggiare le due nuove emergenze, ha disposto il potenziamento della macchina dei controlli e l'istituzione di presidi fissi. I dettagli delle operazioni non sono trapelati e riteniamo anche opportuna tale scelta, utile per consentire di smantellare eventuali e presunti traffici per cogliere in fragranza invece qualunque fenomeno di disturbo. A nome mio e della Commissione Sicurezza ringrazio ovviamente le istituzioni per aver raccolto l'appello dei cittadini consapevoli di quanto sia fondamentale in questo caso intervenire con tempestività per impedire che piccoli nuclei di microcriminalità possano crescere, ha detto il Presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Pescara, Armando Foschi. A Monte Silvano ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo. di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in alcune aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Nel provvedimento il Sindaco De Martinis ha ordinato il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualunque contenitore tutti i giorni, a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa e fino al prossimo 30 ottobre. Questo nella strada parco, nei parchi cittadini e nelle aree verdi pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico su panchine, ovvero seduti al suolo, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e deor. La polizia locale è incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza stessa. Giro di vite dunque dell'amministrazione comunale contro il degrado urbano e soprattutto contro l'abuso di alcol per le nuove generazioni. Una piaga segnalata nei giorni scorsi anche dal consigliere delegato della sicurezza Marco Forconi. Javier Cercas è il vincitore del premio Super Flaiano per la letteratura alla carriera, saggista, scrittore e giornalista del quotidiano iberico El País, il cui libro uscirà il 2 luglio e verrà presentato dall'autore in anteprima nazionale il 4 luglio proprio a Pescara durante la serata di premiazione del Flaiano di letteratura e italianistica. E siamo ai numeri del Centro Operativo Comunale di Pescara, lo 085-4283-400 e Montesilvano, l'800-9422-22. Il meteo oggi dice che su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino alle ore centrali, nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata con temperature da 18 a 24 gradi e 20 deboli. Nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino, poco nuvoloso dalla tarda mattinata a metà pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 18 a 23 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.